Voi siete i cazzi duri del futuro di questa società. Mi sembrate tutti affamati di soldi. È un bene. Chi dice che il denaro è la radice di tutti i mali non ha un soldo. Non fanno la felicità? Guardate che cazzo di sorriso che ho stampato in faccia. Da un orecchio all'altro, vero? Volete dettagli? Bene. Questa è la sequenza di tutti i trade eseguiti a novembre con l'ultimo trade del 29 chiuso in perdita. Con il trade del 29 di fatto il mese si chiude in pareggio con il profit factor per forza di cose a 1, la percentuale di win rate per forza di cose al 50%, il massimo numero di trade vincenti consecutivi è 3 e il massimo numero di trade perdenti consecutivi è 2. andiamo anche ad evidenziare questi periodi. Eccolo qui il trittico positivo del massimo numero di trade consecutivi vincenti, 6, 7, 8 novembre e poi diversi periodi di trade negativi con l'1 e il 5, con il 18 e il 20. Scorrendo poi la grafica andiamo a vedere i numeri complessivi dell'MVTrade. Dal 5 febbraio l'MVTrade è tornato ad essere operativo su un conto reale con 137 trade eseguiti, 74 in approfitto, 63 in perdita, al 22% al bilancio dell'MVTrade. In questo 2019 il rischio adottato per ogni trade eseguito del 2% sul capitale a disposizione. Il 2016 è stato chiuso con l'86% di utile, di ritorno netto sul capitale a disposizione. Significa che se il primo di gennaio una persona partiva con 10.000 euro con rischio al 2% per ogni trade eseguito al 31 dicembre 2016 si ritrovava con 18.600 euro in tasca. Il 2017 è col 48%, il 22% nel 2018. A un mese dalla fine del 2019 anche quest'anno l'MVTrade è in attivo con il record di trade consecutivi in profitto che è pari a 8, il record di trade consecutivi in perdita è pari a 6, il profit factor è 1.17, il net profit or loss è a più 11, la percentuale di win rate è 54.01. I trade totali tra simulazione e reale sono 149,82 in profitto, 67 in perdita, la 30% nel bilancio dell'MVTrade nel 2019 tra simulazione e reale. Grazie per la visione! Grazie per la visione! Grazie per la visione!